Buonasera, buonasera a tutti dal vostro professore di vita Enrico Capaci, benvenuti ad una nuova settimana di lezioni di vita. Innanzitutto vi voglio ricordare un paio di cose, se volete diventare eroi ed eroine anche voi, e far parte di questa famiglia che ha questo desiderio di migliorare un po' il mondo, qua in alto c'è la mia pagina Patreon che trovate anche sotto in descrizione, aderite e farete parte anche voi di questo nostro gruppo. Poi veniamo all'argomento di oggi, vedete dietro di me una serie di porte, ho scelto questo sfondo perché ben rappresenta la linearità di quella che è la realtà di quasi tutte le persone, nel senso questo percorso in discussione. Nasci, vabbè prima qualche giochettino, pucci pucci, poi devi andare all'asilo, e poi c'è la porta delle elementari, vabbè lì non hai ancora margine di chissà quale decisione, e poi ci sono le medie, e poi ci sono le superiori, e poi cosa devi fare in questo punto? O laurea o università, e poi c'è il lavoro, e poi le porte continuano, poi, ebbè ma, finora ho solo storielle poco serie, ossia ho anche di fidanzamenti, ma quando metto la testa a posto e poi c'è il matrimonio, e poi ci sono i figli, e poi c'è la morte. Io mi chiedo, ma veramente, ma è possibile che non ci sia un minimo di orgoglio, un minimo di voglia di emergere da questo piattume? E guardate che io non sono uno che si scaglia contro la routine, contro l'abitudine, non necessariamente, anzi, questa è una società, il paradosso è questo, questa è una società dove le cose magari troppo ripetute, quando non c'è la novità, quando non c'è il nuovo, quando non c'è il brio, si descrive un'eventuale situazione del genere come noiosa, da allontanare per cercare nuove emozioni, questa è una società che esalta questo tipo di cose, e a me non piace infatti quella mentalità, perché invece c'è un'abitudine, c'è una routine che non ha nulla di male, anzi, forse trovi in quella abitudine, in quella routine le cose veramente belle e più importanti, ma il paradosso è che invece contro la reale routine, contro la reale abitudine, contro la schiavitù, ovvero questa, nessuno si scaglia, quindi facile in questo mondo, le persone hanno questa cosa noiosa, questa è sempre uguale, e poi non si accorgono che la loro vita è veramente encefalogramma piatto, proprio totale, ogni tanto, esseri umani, mi rivolgo a voi, ogni tanto, qualche sprizzo di vita, qualche accenno di vita, ma sempre piatti, morti, a vi pare, Santo Cristoforo, ma è possibile, ma veramente possibile che non vi rendiate conto di quanto sia triste una vita in cui voi siete lì totalmente passivi e devo fare questo, devo fare quest'altro, questo, quest'altro, quello, la cosa assurda è che non solo le persone devono seguire quel copione, con le tappe, le tappe, le tappe, ma oltre a fare ciò, non si rendono conto che poi si autogiudicano e giudicano gli altri in base al rispetto o meno di queste tappe, ma voi non venite conto di una cosa, e arrivo al succo del video, la parte più importante di questo video, ma venite conto che per quello che riguarda tutto nella vita, no? Il problema sono sempre quello che dicono gli altri, come? Non, ancora non, non ti sei mai fidanzato? Mamma mia, non ti vergogni? Insomma, i giudizi degli altri che ti prendono in giro perché non ti sei mai fidanzato, perché sei ancora vergine, che ancora non lavori, e allora uno si sente in difficoltà, mi prendono in giro perché non sono fidanzato, mi prendono in giro perché sono vege, mi prendono in giro perché non lavoro, mi prendono in giro perché, che so, mi sono diplomato con due anni di ritardo, sono stato bocciato, mi prendono in giro perché vesto in un certo modo, cioè, e cosa fanno le persone? Tac, eseguono, tac, per non venire giudicate, ascoltano quello che è il volere altrui, ma è tutto così, la gente si fossilizza su certe dinamiche, all'interno di certe dinamiche, per paura della disapprovazione altrui, perché oggettivamente se tu non sei stato fidanzato, no? Di per sé, che problema è? C'è una data? Se tu non sei ancora vergine, che problema è? C'è una data per perdere la giusta? Ti dà fastidio perché gli altri ti prenderanno in giro per quello, se lo venissero a sapere ti giudicheranno, ancora non lavori, se tu per esempio non lavori, ma bene o male hai in qualche modo la possibilità di sopravvivere, qual è il problema? Gli altri che ti giudicheranno per quello, non è la vera, gli altri che ti giudicheranno per quello, hai 40 anni e non sei ancora sposato, qual è il problema di per sé? Perché bisognerebbe sposarsi per forza? Mi spiegate perché ci si deve sposare per forza? Perché gli altri si sposano e ti danno a macchina e non ti sposi, non ho figli, perché dovete fare figli per forza? Perché gli altri danno a macchina e non fai figli, i nonni, anche i parenti, perché non mi dai un nipotino? E giù ad eseguire, se invece, questa è l'osservazione che voglio fare, la gente imparasse a tacere, se la gente tacesse, io proporrei una museruola per tutti, altro che museruola ai cani, museruola a tutti gli esseri umani, tutti, ok? Tutti. Basta, togliamo la parola. La gente vivebbe, per carità, esisterebbero comunque le proprie debolezze, le proprie paranoie, le proprie ansie, le proprie paure, ok? Però, senza gli altri lì a dirti perché fai questo, perché non fai questo, perché fai questo così, perché questo non fai così, ecco, senza il giudizio prestante al tuo, a partire dai genitori, io credo che se andrebbe avanti un pochettino più spontaneamente, senza per forza, dovesse dedicare a quella ben precisa tappo, cercare di ambira a quel preciso traguardo, perché è questo che la gente non vede. Tutti che vogliono fare gli alternativi, tutti che vogliono dire voglio godermi la vita, ma quante volte ho sentito questa frase, ah sto sprecando la vita, il tempo passa, eh ma ancora questo, ancora non l'ho fatto, esperienze, novità, quindi una sorta di, uno potrebbe dire, vabbè dai, di per sé può essere anche qualcosa di positivo, no? Ambire alla novità, ambire a godere di quante cose più possibili, ma poi tu vai a vedere l'essenza, fanno tutti le stesse cose, nei dettagli vogliono le novità, fatina lì, quella lì, quella lì, ma nella sua stanza, proprio la vita, nella sua totalità, nelle grandi scelte, tutti che fanno le stesse cose. Quindi smettete di fare i ribelli, i ribelli mentre giocate a nascondino, mentre guardate i puffi, cioè bisogna di fare i ribelli da salottino, i ribelli nelle idiosie, ma fate i ribelli nelle cose vere, non per forza vi dovete diplomare, non per forza vi dovete laureare, non per forza vi dovete sposare, non per forza dovete avere i veri figli, non per forza dovete vedere, dovete vivere un rapporto d'amore convenzionale, ci sono delle regole, in un fidanzamento si fa così, in un amicizia si fa così, oh ma cazzo! E non è una parolaccia questa, ora mi metteranno il video nelle restrizioni, ma questa non è una parolaccia, le parolacce sono quelle di FabiJ, gratuite, la mia ha un senso, non potrei dire cavolo, perché non darei l'idea, cazzo ci sta qui, perché veramente mi era triste vedere degli esseri umani piatti, morti, schiavi, che hanno un minimo di slancio verso una propria autenticità, e poi è bello che gli stessi poi vogliono fare quelli che, no ma io, no no no, questo qui, e beh, ho bisogno di novità, brio, ma di che? Ehi, non siete degli zombie, svegliatevi, e poi sono tutti tristi, sono tutti insoddisfatti, e perché secondo voi? Ci sono due tipi di persone insoddisfatte, un 80% i pecoroni schiavi di questi meccanismi e non se ne rendono conto, e poi esistono anche delle persone insoddisfatte e tristi, malinconi, che non sono pecoroni assolutamente, le conosco, molte seguono il mio canale, definiscono semplicemente per essere tristi, perché comunque si sentono aliene in un mondo che non gli appartiene, un mondo che li giudica dalla mattina alla sera, io sono qui alla fine per voi, ragazzi, ma è chiaro che questo mondo è difficile vivere, soprattutto se si hanno avuto anche traumi, genitori particolarmente odiosi, lo so, io magari ho subito bullismo, però ho avuto un'ottima madre, quindi un clima in casa tranquillo, no? Altri sono stati meno fortunati di me in questo senso, e quindi per loro è più difficile essere di buon umore, però anche nella sofferenza veramente anche quasi estrema, psicologica, uno dovrebbe dire, ma ok, è difficile la mia vita, sto spesso male, non preferisco essere così, stare male, ma essere una bella persona, è meglio stare male ed essere una persona che non fa del male agli altri, è meglio stare male ed essere una persona che non fa le stesse cose degli altri, piuttosto che stare bene, o relativamente bene, o illusoriamente bene, o meno peggio, e però essere uno schiavetto lobotomizzato e magari fare pure del male agli altri, perché poi ve l'ho detto, non a caso, a vivere così schiavi degli altri, eccetera, ma anche le persone che vivono facendo del male agli altri, nel piccolo, nel grande, non stanno bene, quindi smettiamo anche con la logica del mi rivolgo alle persone diverse, eh se fossi come gli altri però staremmi, no non staresti meglio, e soprattutto non pensare a questa cosa, sii orgoglioso di come sei, non fate male agli altri, orgoglioso di te, non sei uguale agli altri, quindi sei un pochettino più libero, ovviamente la libertà è un concetto relativo, in quanto esseri umani figli della natura, la libertà in sé non esiste, ma in questa schiavitù che guarda tutti, siamo un po' liberi degli altri, gli altri sono schiavi due volte, tre volte, cinquantamila volte, schiavi fino al midollo, mi casca il mouse, scusate, noi cerchiamo di essere pure in un contesto di schiavitù un pochettino più liberi, tirare fuori una piccola parte di noi, senza dover per forza recitare un ruolo, senza per forza dover indossare una maschera, senza per forza dover seguire il teatrino che si aspettano gli altri, mandateli a quel paese gli altri che non vi accettano per come volete, mandateli a quel paese gli altri se vi tratterebbero male, se non rispettate quello che loro vogliono, ma fate quello che vi pare nella vita, il più possibile, poi chiaro non si potrà fare sempre quello che si vuole, ma il più possibile sì, per quello che si può, e allora lì sarete un briciolo meno infelici, ve lo dico io, fidatevi di me.